Nonostante le restrizioni da zona rossa previste dal decreto legislativo, impennata di nuovi contagi in Sicilia. I nuovi positivi al Covid-19 sono adesso 1.391, dei quali 197 nella sola provincia di Siracusa. Un dato sconfortante, probabilmente dovuto ai postumi di probabili assemblamenti casalinghi durante le feste di fine anno. Basti pensare che il giorno precedente Siracusa aveva soltanto 16 nuovi contagi, mentre il totale della Sicilia era di 1.047 nuovi contagiati, con un aumento quindi di 344 persone. In totale, dall'inizio della pandemia, sono stati 5.954 i casi di contagio nella provincia siracusana. Il dato dei ricoveri oggi per coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 46 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 186 persone, 2 in più rispetto a ieri. Il dato dei guariti è pari a 370 persone, 34 sono i decessi. I tamponi molecolari processati sono stati 7.597, 1.278 in più rispetto al giorno precedente. Questo è infine il numero dei contagiati attuali in Sicilia per ogni provincia. 44 ad Agrigento, 56 a Caltanissetta, 396 a Catania, 48 ad Enna, 210 a Messina, 295 a Palermo, 69 a Ragusa, 197 a Siracusa, 76 a Trapani.